Chi è tempo non aspetti tempo, così dice il proverbio e per le vacanze questo sembra essere ancora più vero. E gli italiani sono divisi in due fazioni quasi uguali, un 48% che prenota le vacanze da un anno a tre mesi prima di partire e un 52% di ritardatari che ama organizzare la vacanza nei due mesi precedenti la partenza. Ma i primi si dicono decisamente più soddisfatti. Emerge da una ricerca di 2.0, agenzia di ricerca del gruppo DOXA per Club Med. Le percentuali cambiano di molto se si va a guardare la qualità e il gradimento della vacanza. La grandissima maggioranza degli early bookers dichiara infatti di avere trascorso una vacanza bella o addirittura eccezionale. Il dato è nettamente inferiore per i late bookers, quelli che prenotano tardi, tra i quali la percentuale di vacanze così soddisfacente scende di quasi 20 punti. Dalla ricerca risulta anche che gli intervistati sono ben consci del fatto che giocare d'anticipo dà risultati migliori. Il 62% pensa che il periodo ideale per prenotare è prima, ma più della metà non lo fa e le motivazioni non sono solo legate a un'effettiva volontà di aspettare l'ultimo minuto. Il 44% è costretto in quanto non ha conoscenza del periodo di ferie e di lavoro. Il 29% lo fa per pure indecisione su dove andare. Per quasi la metà degli intervistati il motivo principale per prenotare presto rimane la possibilità di sconti o promozione. Ma non basta. Il 72% di chi prenota prima dichiara di riuscire a ridurre lo stress è legato alla pianificazione della vacanza sottodata. Ma cosa intendono gli italiani per vacanza perfetta? Per il 58% vuol dire staccare la spina. Questo aspetto sta molto a cuore alle donne. Non doversi occupare di nulla durante la vacanza è infatti fondamentale per le intervistate. Il secondo ingrediente è invece diverso a seconda che si viaggi a due o in famiglia per la maggioranza delle coppie. Conta soprattutto la possibilità di scoprire nuove culture o tradizioni mentre per il 45% delle famiglie resta indispensabile godersi il riposo con il partner mentre i figli si divertono in sicurezza. L'organizzazione tardiva porta in alcuni casi conseguenze negative secondo la ricerca dal perdere l'offerta migliore al passare la vacanza in una struttura di scarso livello dal trovarsi a spendere di più di quanto si sarebbe speso prenotando in anticipo al caso estremo che capita per fortuna solo a un italiano su dieci rimanere a casa a mani vuote dopo aver aspettato fino al giorno prima dell'eventuale partenza.